Solo la Dugout, fino a 10.000 euro di supervalutazione del tuo usato, promozione riservata su numero limitato di vetture presenti in concessionaria e fino a esaurimento scorte, fino a 5.000 euro su classe A e classe B, fino a 10.000 euro su classe C Berlina. Freddo e neve in Irpinia, fiocchi sull'Ofantina dove in alcuni momenti della mattinata ci sono stati problemi di circolazione mentre si temono gelate nelle prossime ore. Sulle strade sono in atto controlli da parte della stradale per gomme termiche e catene per verificare la corretta circolazione dei mezzi, così come prevede l'obbligo fino al 15 aprile. Le precipitazioni nevose hanno interessato l'Alta Irpinia e la zona della Baronia, osservata speciale l'Ofantina, in quanto le previsioni annunciano neve nelle prossime ore, ma soprattutto un forte calo di temperature. Ma il peggio deve ancora venire, si attende infatti Burian, vento di aria gelida che non arriverà da solo ma porterà con sé la neve. La protezione civile è emesso all'erta gialla per la campagna. Gli esperti affermano che a partire dalla giornata di domenica si registrerà un freddo anomalo con temperature che potrebbero restare sotto lo zero anche nelle ore diurne. La perturbazione in arrivo dalla Siberia non risparmierà l'Irpinia, in particolare nei primi giorni della prossima settimana, quando si attende neve fino a bassa quota e temperature particolarmente basse, con minime di meno 4 gradi e massime di appena 2. In presenza di Burian, viste le caratteristiche di questo vento, le temperature possono scendere anche di 10 gradi in meno di mezz'ora.